Nuovo arresto per droga a Ponte Cagnano-Faiano, a finire in manette un 21enne del posto, arrestato dalla polizia del commissariato di Battipaglia nel corso di specifiche attività finalizzate a contrastare lo spaccio di droga. Il giovane è stato controllato mentre si intratteneva con un suo coetaneo battipagliese. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale ed il 21enne è stato trovato in possesso, occultata nelle tasche del giubbino all'interno di due portamonete in pelle, di 110 confezioni di cocaina del peso totale di 27 grammi e 30 confezioni di eroina del peso complessivo di 6 grammi. Inoltre il giovane deteneva un'ingente somma di denaro provento dell'attività illecita pregressa. Il 21enne è stato arrestato e posto ai domiciliari perché resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza superfacente del tipo cocaina ed eroina.